Ciao, sono Jill Cooper e voglio aiutarti a cambiare. Buongiorno a tutti, nuovo podcast webinar, un podcast se lo volete solo sentire, webinar se lo volete vedere. Andiamo a parlare di pancia piatta e stiamo parlando di quello che probabilmente è la domanda primario, ancora prima dei glutei, ancora prima delle gambe, le persone mi chiedono per questa pancia, una pancia che può essere esuberante, troppo prominente, che cosa posso fare per l'abdome. Ovviamente partiamo sempre che il movimento è importante, io non ho mai detto che c'è un singolo bacchetta magica per quanto riguarda qualunque cosa del benessere, se io voglio ritrovare la forma, movimento, nutrizione, digiuno in intermettenza, dormire, integrazione, mindfulness, ci sono un sacco di cose che lavorano tutti insieme, ma effettivamente ci sono un sacco di cose che possiamo fare con l'integrazione. Oggi volevo parlarvi dei miei integratori dedicati alla pancia, dedicati a questo adipe che può accumularsi sulla pancia. La donna spesso e volentieri trattiene anche tantissimi liquidi sulla pancia, però andiamo a parlare di quali sono i fattori che possono gonfiare questa pancia. Uno è lo stress, troppo stress crea un'esuberanza della produzione di cortisolo, il cortisolo poi ha una tendenza di farci accumulare liquidi e adipe sull'abdome, rischiando anche di rendere il nostro intestino poroso, ossia poroso che crea infiammazione nel corpo, una cosa che assolutamente non vogliamo. Inattività ovviamente può causare gonfiore sulla pancia, meno pausa può creare gonfiore sulla pancia e poi ovviamente una cattiva alimentazione può creare gonfiore sulla pancia. Ci sono delle persone che dicono che la pancia piatta si fa solo alla tavola e in parte è corretto, però non è 100% corretto perché comunque non ho mai visto una pancia. Diciamo, formarsi o trasformarsi senza movimento, ragazzi, devi fare gli addominali se volete vedere la pancia diventare a tartaruga. Però invece stiamo parlando soltanto di gonfiore. Oggi volevo parlarti di un prodotto che non parla tanto spesso, i goji berry. I goji berry è un frutto molto interessante e anche molto completo perché è ricco di tutto questo, di zinco, di calcio, di ferro, di selenio, vitamine C, proteine, potassio per i muscoli, vitamine B per l'energia, bette carotene per gli occhi perché è comunque una bacca rossa, la bacca rossa spesso e volentieri, arancione rosso, ha le bette carotene che aiutano gli occhi, lo zinco per la pelle, calcio per le ossa per aiutarci anche il peso. Il calcio può aiutarti anche a perdere peso, ferro per il sangue. E parlando di questo fatto di goji berry, quando parliamo di un vero e proprio integratore è la concentrazione, perché la concentrazione è quella che ci darà sempre risultati. Io potrei assolutamente prendere i goji berry, andare a un negozio specializzato, di solito con le naturali erbo-restorie o naturopate, trovare bacco di goji di provenienze biologiche, ma quanti dovrei mangiare e sono anche ricche di zuccheri, perché comunque è sempre un frutto sia. E qui abbiamo una singola bacca di goji, è come se stessi mangiando cinque cucchiai di goji, non so se l'avete mai mangiato un bacco di goji, ma ti rimani spesso nei denti e così, questa è una soluzione. Ma voglio farvi innanzitutto parlare di questo fatto che le bacca di goji ci aiutano a ridurre lo stress nell'organismo. È un eccellente prodotto per ridurre l'infiammazione, la pH acido nel nostro corpo. Guardiamo insieme questo filmato che ha trovato molto interessante, perché quando il sangue è troppo acido, i globuli rossi si raggruppano tra di loro, c'è poco mobilità delle globuli bianche. Dopo 24-36 ore di assunzione di goji, vedi che già sono più mobili, sono più attivi, c'è meno segno di anemia dopo 8 giorni di goji, i globuli bianchi che sono molto più attivi, che vuol dire che ci aiutano proprio di rendere il nostro sistema immunitario più attivo. Questo è un globulo bianco che sta proprio inglobulando, perché le bacche di goji possono aiutare a ridurre il pH acido nel corpo, diminuendo l'infiammazione, potenziando il risposto immunitario, rilassando il sistema nervoso parasimpatico, per aiutarci ad avere una risposta di riduzione di questi cortisoli, riduzione di queste infiammazioni, riduzione di quello che creano quelle pancie gonfie. e andiamo ad ascoltare queste testimonianze, perché è molto interessante, perché poi vi spiego dopo il perché. È circa un mese che sto prendendo bacche di goji e mi sento rilassata, dormo di più e mi sento più serena. E al di là di questo mi sono sgonfiata a livello addominale. Poi c'è un'altra cosa che molto simpaticamente, dietro le quinte, ha detto questa ragazza, che dice non sto attaccando mio marito, ma attacco meno mio marito. Perché ricordiamo che comunque siamo nel sistema nervoso, siamo nel circuito fisiologico, ma anche chimico, se vogliamo dire, e le nostre emozioni a volte sono legate anche a un sbilanciamento o un dislivello, disequilibrio, è la parola ancora più giusta, tra produzione di adrenalina, dell'innesto di questa risposta che si chiama fight or flight, che ci costringe di voler attaccare, o di evitare di essere attaccati. Invece quando noi riusciamo a ridurre l'infiammazione nel corpo, ridurre la risposta immunitaria di aggressività, ci siamo anche un po' più calmi, più tranquilli, e questo ci potrebbe, come potete notare, aiutare anche con il gonfiore localizzato sulla pancia. Sentiamo ancora un'altra testimonianza dedicato proprio alle nostre goji. Le bacche di goji, intanto mi sono dimagrita di un chilo nel giro di 15 giorni. Ho visto che le bacche di goji mi danno energia, mi danno carica, soprattutto la mattina, perché io ne prendo una la mattina e una la sera. Io soffro un po' di pressione bassa, quindi in questo periodo anche di caldo, la mattina faccio fatica a ingranare. È migliorato anche l'umore, mi sento più serena, più tranquilla, meno ansiosa, questo l'ho notato. Però dormo benissimo. Sì, sicuramente sull'umore ha agito. Mi vedo la pelle del viso diversa. Ho perso un chilo, quindi sicuramente mi sono anche sgonfiata. Allora girovita, fianchi e cosce. Allora girovita, fianchi e cosce, la zona che interessano tutte le donne, magari anche voi uomini. Allora bacche di goji è un prodotto che ci parlo troppo poco, secondo me, perché è considerata una bacca che usano i monaci buddhisti, vocifera una leggenda, una leggenda che un monaco buddista ha vissuto fino a 200 passi anni grazie alla bacche di goji. Ovviamente è una leggenda, però se la usano, se è considerata wolfberry, che si chiama wolfberry o gojiberry, wolfberry vuol dire la bacca dei lupi, è utilizzato per dare calma, per dare tranquillità, e che così ci può aiutare a ridurre una produzione troppo eccessiva di cortisolo che potrebbe gonfiare la pancia dandoci questo gonfiore che non vogliamo. Ma un'altra cosa molto importante per il gonfiore dell'abdome sono i probiotici e i prebiotici e vorrei in questo caso andare a parlarvi anche di ProBioActive. ProBioActive è la mia soluzione di probiotici e prebiotici, ma con più di 6 miliardi di probiotici, lactobacilli, bifodi o batteri, che sono i due ceppi più rinomati per aiutare la flore batterica, specialmente se abbiamo disbiosi del microbioma, formula brevettata per aiutarci su diversi fattori, la vediamo in studio scientifici tra poco, però la capsula è gastroresistente. Perché questo è importante? Perché nel nostro microbioma è in un contesto anaerobico, senza ossigeno. Abbiamo bisogno che i probiotici arrivino vivi all'intestino per aiutare la loro proliferazione, così possono diciamo proliferare, crescere, vivere e quant'altro. Ti dico anche un'altra cosa molto interessante, è che la gran parte del vostro feci sono probiotici morti. Non so se sapete questo, non è cibo diciamo digerito, ma in gran parte sono questi probiotici che hanno costantemente uno ciclo vitale che vanno anche riintegrati o rinutriti o riserviti al nostro corpo. Lo possiamo ovviamente fare attraverso l'uso di cibi vivi come yogurt, comica, fear, cibi fermentati o altrimenti possiamo nutrirci ogni tanto con probiotici e prebiotici. Probiotico è il ceppo vivo che fa il suo, è proprio una simbiose con il nostro organismo. Ovviamente non fa parte del nostro organismo, ma interagisce con il nostro organismo. Siamo simbiotici, cioè loro non possono vivere senza il nostro corpo ospite, ma noi non possiamo vivere senza il nostro microbioma. perché interagisce su sistema immunitario, sulla produzione della serotonina, sulla produzione di vitamine a livello del viscerale che è molto importante. Però il prebiotico invece è importante perché nutre il probiotico e tutti e due devono arrivare con questo capsulo gastroresistente oltre l'acido dello stomaco. Ecco perché abbiamo gastroresistente, perché non vogliamo che si apre nello stomaco. Infatti molto prebiotici lo vedi che sono bevibili. Il problema è che quanti di quelli probiotici riescono a superare la barriera dell'acido proprio dello stomaco per arrivare alle viscere intatta e vivo? Questa è la prima domanda. L'altra cosa è i miliardi. Adesso prima c'erano un miliardo, adesso potete vedere da 6 miliardi, 24 miliardi, addirittura 450 miliardi con un ottimo brand che si chiama VSL. Se non sbaglio il numero 3 la trovi in farmacia o parafarmacia. La cosa con i probiotici non c'è una scienza esatta tranne se fai un campionatura della tua microbioma anche attraverso un'analisi delle tue feci. Così il mio consiglio con i probiotici è di alternare. Se magari provi con ProBioactive e poi cambi e poi VSL 3 e poi potresti provare un altro brand come Joves. Insomma, ci sono tanti perché nessuno, me incluso, può dirti esattamente qual è il quadro tuo microbioma senza una campionatura. Però andare avanti a fortificare il nostro microbioma e vivere meglio, sì, te la posso garantire. Andiamo a sentire una ragazza che ha utilizzato a causa di una pancia gonfia. Male Slim ProBioactive si chiama Verdiana e vediamo come si è trovato con queste due soluzioni per sgonfiare la pancia. Male Slim ProBio la pancia come la senti? Guarda, sicuramente più sgonfia. Io ho perso ad oggi due chili e mezzo, quindi pesavo 79, adesso peso 76,2. Guarda Jill, io se ti dovessi dire che 15 giorni fa qualcuno mi avesse detto ma tu salteresti mai due volte al giorno sul trampolino, due allenamenti al giorno li faresti mai? No, sinceramente non faceva proprio parte di me, perché come vedi qua dietro questo è il divano dove io passavo la maggior parte del mio tempo guardandoti comodamente sul divano, quindi scusami, questa è stata la mia colpa, diciamo. Non è una colpa, ragazzi, ogni giorno è un'opportunità di ripartenza, io sono fissata su questo concetto che non siamo mai fermi, cioè non siamo mai alla fine finché non siamo alla fine, cioè fino all'ottimo giorno su questo pianeta noi possiamo crescere, cambiare, migliorare, studiare, plasmare, cambiare e creare un luogo e una salute migliore ma anche un posto dove vivere meglio, cioè un fisico più rilassato, meno infiammazione, pancia più sgonfio, così di conseguenza sono mentalmente più forti, non importa l'età e non è neanche una questione di forma fisica anche se molte persone dicono ho perso chili, va bene perdere chili ma io secondo me perdere un fiore. Ok, io vi ho promesso gli studi scientifici, noi abbiamo un vero e proprio brevetto dentro questo nostro ProBioActive e i ceppi di ProBioActive in confronto a placebo potete notare dove sono stati integrati hanno avuto un notevole proliferazione alle differenze dove non c'erano ok e il placebo ovviamente dove non c'erano e questi sono i ceppi di ProBioActive ma che hanno aiutato ProBioActive qui in viola il placebo in grigio cioè con riduzione dei dolori abdominali con ProBioActive 60 giorni vedi ok e questo è in confronto riduzione dei dolori abdominali qui ProBioActive riduzione di crampi abdominali 60 giorni poi voglio farvi vedere riduzione di stitichezza 60 giorni allora questa è la famosa fase quando io vi invito di cambiare i ricetti perché hanno avuto un effetto migliorativo fino al sessantesimo giorno e leggermente hanno perso forza al novantesimo giorno quando io ti dico infatti non ti dico prendere sempre il mio prodotto sempre ProBioActive fino fino a fine dei tempi no onestamente nessuno lo sa ma noi tranne se avessi una campionatura della tua microbioma ma era un po' complicato da eseguire così magari prendi uno due mesi di ProBioActive poi alterni poi cambi per questo tipo aiutare con l'integrità integrità della vostra flora batterica che può proteggere dalla porosità intestinale che può proteggere o fortificare o sostenere il vostro sistema immunitario che potrebbe ridurre l'infiammazione nel corpo che aiuta a ridurre poi la produzione eccessiva di cortisolo perché il cortisolo serve è quello che ci tiene in svegli la mattina e ci dà energie durante l'orca della giornata e quello che vogliamo fermare o ridurre è l'eccessiva produzione di cortisolo pensando che ci siamo sempre in fight or flight ma voglio farvi ascoltare o vedere questo questo contributo un contributo non tropevate che la abbiamo due cervelli uno è nell'intestino e poi abbiamo si è attraverso la nervovaglia che comunicano in caso si fagliano l'unico e uno fa male e fa male anche l'altro il cervello nel seno è molto legato quindi è possibile perché noi abbiamo una telegravidanza e due sistemi nervosi personali quello il cervello è di forza l'unico sociale il loro dialogo è di forza l'unico ma non solo anche anche se gli occhi puoi aiutare un'intestino prendendolo da il cervello puoi aiutare più il cervello e poi provare la pelle più bella meno ansia regolarità intestinale più salute più forma fisica ci aiuta veramente tanto sentiamo l'ultima testimonianza sui probiotici e passiamo sul nostro prossimo consiglio per la pancia piatta ho iniziato a usare i probiotici di QQ per circa un mese fa quando ho iniziato ad usarli ho sentito un benessere generale del mio corpo è migliorata tantissimo la qualità della pelle è più luminosa più radiossa vado anche più regolarmente al bagno ho acquistato più serizzato in calma e anche la qualità del sonno è migliore ho notato anche che ho perso un chilo da quando ho iniziato di nuovo stiamo parlando di queste pancie gonfie che cominciano a piattirsi è un altro prodotto eccellente per questo è Mela Slim avete mai sentito nominare una mela al giorno tiene il dottore d'antorno togli il medico d'antorno e perché c'è un prodotto dentro Mela Slim che si chiama Florenzina ok Florenzina titolata 50% aspetta te lo faccio vedere 50% vedi qua 50% di Florenzina e solo Mela viene estratto dalle bucce delle mele e questa Florenzina ha un effetto molto benefico per quanto riguarda la pancia guardate questi gonfiori qua che sono diminuiti notevolmente grazie a Mela Slim perché Mela Slim aiuta a limitare e modulare l'assorbimento di nutrienti a livello intestinale ma oltre questo che cosa succede nella nostra pancia noi abbiamo il GOLT che è Gastro Associated Lymphatic Tissue ok il tessuto linfatico associato al nostro livello diciamo tubogastrico 70% vive nelle viscere e queste viscere che cosa fanno sono sentinelle che stanno lì per capire e dialogare con quella sistema nervoso centrale sistema nervoso interico sono neuroni nella vostra pancia che parlano con il cervello e decidono che cosa deve entrare per il benessere dell'organismo fisiologia della produzione energetica e sistema immunitario per non far entrare come muffe batteri virus patogeni e anche molecole che potrebbero essere intolleranti dal nostro corpo lattosio e glutine a quel livello intestinale se hanno più tempo di essere osservati le nostre saltinelle lungo il tratto intestinale avremo molto probabilmente più tempo di ridurre ok l'assorbimento di elementi nocivi per la nostra salute e il nostro melestream aiuta proprio questo perché il melestream la florensina aiuta a far proliferare da diversi studi scientifici quale che si chiama a germansia in questo melestream il meccanismo ipoglicimizzante della florensina è stato associato con una diminuzione delle LPS che sono altamente infiammatorio l'ipopolisacaridi ed è un cambiamento nella microbiota batteri benefici in questo studio si è visto che i topolini che erano obesi sono diventati magri perché la germansia che è un probiotico che viene e è anorobico io non ti posso dare la germansia in capsula perché la germansia essendo anorobico morirebbe in contatto con l'ossigeno ma con melestream ho la possibilità di stimolare la tua produzione endogeno di la germansia in un contesto anorobico come le viscere che comincia a creare una sorta di rinforzamento della linea delle delle vili intestinali fa una sorta di spessore di mucilagine infatti usiamo la mele per fare che cosa le marmellate perché crea la pectina crea una sorta di viscosità nella gelatina tenendolo diciamo un po' più composta sulla nostra viscere ci aiuta a proteggere le vili intestinali dando il tempo al nostro sistema immunitario a decidere quale che passa o non passa e cominciamo a ridurre e limitare l'assorbimento di nutrimenti ma anche zucchero ma l'altra cosa è riduciamo l'assorbimento di molecole infiammatorie come le LPS lipopolisaccaridi che sono altamente infiammante per il nostro corpo così se io prendo un proprio active e prendo una mela slim e prendo il bacco di goji insieme è molto probabile che posso cominciare a aiutare questa pancia a ridursi perché riduco alla fine proprio la risposta immunitaria ad avere troppo infiammazione nel corpo è una cosa che assolutamente non vogliamo ma c'è un altro prodotto che molte donne in menopausa mi chiedono perché in menopausa notiamo che il nostro metabolismo si rallenta e in questo caso voglio farvi vedere sempre la mia amatissima caffè verde scusami arriverò a caffè verde ok caffè verde di nuovo vediamo la pancia di nuovo stiamo guardando la pancia e questo pancia in questo caso questa donna ho dato garsini e cambogia caffè verde questi sono due prodotti metabolici proprio per aiutarci non solo aumentare il consumo metabolico di calorie aiutando a dare tono al metabolismo ma garsini e cambogia oltre ovviamente metabolizzare più lipidi aiutare con il controllo del fame ci aiuta con i peristalsi chi prendere chi prende garsini e cambogia di una persona stitica di solito entra 24 48 ore va regolarmente in bagno perché il nostro garsini a cambogia aiuta anche con i peristalsi che aiuta ad evacuare e non sentirci la pancia gonfia stitica fastidioso e pieno di aria in più abbiamo anche diciamo il caffè verde che ci aiuta a stimolare questo metabolismo magari quando cominciamo a affrontare il menopausa che un problema di menopausa spesso volentieri è la pancia gonfia ma per altri motivi non di infiammazione ma proprio di rallentamento metabolico in quel caso caffè verde e garsini e cambogia sarebbe il consiglio che ti darei oltre ovviamente gli altri per avere una pancia più piatta ma andiamo a ascoltare questa donna Florinda perché la sua testimonianza è molto importante e e lo discuteremo perché è importante quando rientriamo dalla testimonianza ascoltate sto prendendo ancora il caffè verde e la carnitina guarda che da quando le ho presi sono calata di 30 kg poi non sono più aumentata di un etto sai cosa vuol dire io ho perso 30 kg ma non sono più aumentata di un etto in un anno sono quasi due anni e mezzo io continuo il mantenimento si continuo il mantenimento e mangio e sto bene uguale non ho più niente non ho più neanche un etto non è aumentato neanche un etto quanti anni hai? 77 77 anni a perdere i 30 kg a 67 anni quando hai meno voglia di muoverti hai più dolori articolari perché invecchiando parte del nostro problema dell'invecchiamento è dolore articolare chiunque ha uno scheletro me la può confermare questa se ha più di 45 anni 50 anni immaginate di avere meno peso da portare in giro così io ovviamente qual è il mio consiglio per ridurre la pancia movimento dormire bene mangiare con regolarità digiuno in intermittenza bere tanta acqua evitare i zuccheri troppo semplici mangiare più frutta e verdure più verdure che frutta molto 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 verdure ridurre ovviamente l'uso di troppi cibi pesanti e poi integrazione l'integrazione è quell'ultimo chicca ultimo calcio di arrivo che veramente aiuta tantissimo a migliorare i processi fisiologici perché integra ciò che il tuo corpo non sta facendo in modo ottimale né più né meno non è una sostituzione ma è un'integrazione integro qualcosa che mi può aiutare la pancia a diciamo a snellire a dire meno gonfio anche per gli uomini insomma io penso che tutti quanti vorrebbero avere la pancia più piatta ma voglio finire questa presentazione proprio con un altro divertente diciamo proprio una testimonianza divertente perché sente lui è un uomo e sentiamo la sua gioia felicità con questo integratore che gli ha aiutato a ritornare in forma con tanta facilità ascoltate prendo caffè verde sia di cambogia alla grande ho perso quasi 14 chili quasi da 4 mesi tranquillo proprio eppure ero un mancione non ho sentito niente però davvero un giovane di 5 anni davvero grazie mi sento un giovanotto funziona sì che funziona grazie grazie a me è piaciuto proprio questo fatto che comunque tutti quanti possono tornare in forma oggi volevo parlare della pancia piatta perché sicuramente è un tema che incuriosisce tantissime persone se volete fare anche degli esercizi per l'abdomen gratuitamente su youtube c'è un playlist chiamato the abdominal challenge abdominal challenge non so se sono 28-25 allenamenti tutti dedicati alla pancia basta che le fai almeno 5 minuti al giorno che ti aiuterà tantissimo ricordate che mangiando bene ti aiuterà tantissimo e magari la bacca di goji e la mela slim e caffè verde ecco ce la metti tu Garcini e Cambogia caffè verde potrebbe aiutare ma anche proprio active può aiutare e alternare probiotici non fare sempre non prenderli sempre e non prenderli sempre la stessa marca cambia sempre e questo ti aiuterà a avere magari due mesi di gloria interrompi un mese provi un altro brand e continui a alternare per aiutare la pancia a essere sgonfia e libera e l'altra cosa è lo stress proviamo di cercare positività di cercare di mindfulness e ogni tanto di fare una bella fermata di testa per darci la voglia di tornare mentalmente in uno stato di rilassamento e per il resto passate una giornata favolosa se vi piacciono questi video condivideli per favore lasciami un like ricordate di spingere su follow sulla diciamo la campanella per sentire quando ci sono nuovi video qui su youtube o sui miei social e per il resto passate una giornata favolosa bacio dalla G e per la